Pace del Signore a tutti quanti voi, Dio vi benedica, 11 agosto questa mattina, 7 del mattino, il mio desiderio è che siate tutti quanti bene, spero che in questo nuovo giorno la parola di Dio possa arrivare propizia al vostro cuore e possa essere una benedizione per la vostra vita. Leggiamo nell'Epistola di Paolo e Filippesi, capitolo 1, verso 6. L'Apostolo scrive, ispirato dallo Spirito Santo, ho questa fiducia che colui che è cominciato in voi un'opera buona la conterrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. C'è una fiducia nell'Apostolo Paolo e spero che tutti quanti noi abbiamo una fiducia, questa fiducia naturalmente non è fondata su noi stessi ma è fondata sul Signore. Infatti la fiducia dell'Apostolo Paolo è che colui che aveva iniziato l'opera, vale a dire Cristo, il Signore l'avrebbe portata a compimento. E noi ancora oggi confidiamo nella grazia, nella potenza e nell'aiuto che viene da parte del Signore. Mentre nel mondo pagano che ci circonda c'è sempre più spazio per le leadership umane, tanti confidano nelle capacità dell'uno dell'altro. Mentre in un mondo religioso anche quello cristiano che è sulla via del decadimento si punta anche lì sulle abilità di questo, di quel predicatore, di questo, di quel guaritore o evangelista o altro, la vera Chiesa del Signore continua ad avere la sua fiducia in Cristo Gesù. Perché sappiamo che Lui è l'unico che può iniziare un'opera e Lui è l'unico che la può portare a compimento. Senza di Lui non ci sarebbe l'inizio dell'opera e senza di Lui non ci potrebbe essere un compimento. Ecco perché l'Apostolo Paolo ha fiducia ed ecco perché noi riusciamo ad avere fiducia fino a quando i nostri sguardi sono rivolti sul Signore, colui che ha iniziato un'opera buona. L'opera che il Signore inizia quando noi doniamo il nostro cuore a Lui, ci pentiamo, ci ravvediamo dai nostri peccati, è certamente un'opera buona. Perché è un'opera che ci porterà a vivere per l'eternità col Signore. È un'opera che su questa terra ci assicura la presenza di Dio, la benedizione di Dio, l'aiuto e il soccorso del Signore. Non ci esenta dalle prove, sia chiaro, non ci esenta dalle malattie, non ci esenta dai problemi, ma ci garantisce la presenza del Signore in tutte queste cose. E quanto è preziosa quella presenza. Mentre chi non ha Cristo cade nella disperazione, in un dolore profondo, chi ha il Signore continua a rimanere fiducioso. Perché sa in chi ha creduto e sa che tutto quello che accade coopera per il bene della sua vita in vista della salvezza, perché questo poi è lo scopo della fede, la salvezza dell'anima. Colui che ha iniziato un'opera buona. E io spero che in te l'opera buona sia iniziata e che non sia iniziata perché hai cominciato a seguire una nuova denominazione religiosa o qualche bravo predicatore che col suo parlare ti delizia, magari ti rasserena. Io spero che in te sia iniziata l'opera della salvezza. E se non è iniziata stamattina, credo che sia il giorno propizio affinché questo accada. Non devi fare molto, devi realizzare che dinanzi a Dio sei un peccatore o una peccatrice e che hai bisogno del sangue di Gesù Cristo come mezzo per il lavacro, per la purificazione della tua anima. Non pensare che ci siano altri modi per poter vedere i propri peccati cancellati. Non c'è un uomo, non c'è una religione, non c'è nessuno all'infuori di Cristo che possa garantirti la purezza dell'anima tua, le vesti imbiancate, perché è solo il sangue di Gesù. Solo il sangue di Gesù ha questo potere. Non c'è nessun altro nome, disse l'Apostolo Pietro, e lo leggiamo nel Libro degli Atti che si è stato dato, mediante il quale noi possiamo essere salvati. E dopo aver realizzato questo, invocato il perdono dei peccati, rabeliti, cominci a camminare nelle vie della santificazione, legge ogni giorno la parola, permetti alla parola di modellare la tua vita, lasciati cambiare, trasformare, plasmare da questa benedetta parola. Frequenta coloro che hanno realizzato la tua stessa esperienza e con loro condividi momenti di comunione col Signore e anche fraterna. E permetti ancora che tu possa essere usato da Dio per poter raggiungere anche altri. Così l'opera che è iniziata in te inizierà ancora in altre persone. Ed è un'opera, questa che il Signore ha iniziato, che vuole portare a compimento. In altre parole Dio non lascia a metà le cose. Egli vuole che noi possiamo raggiungere, come spesso diciamo in queste meditazioni mattutine, la statura di Cristo Gesù. E quindi avviene che giorno dopo giorno veniamo modellati, qualche spigolo viene levigato, qualche aspetto del nostro carattere viene trasformato e noi diventiamo sempre più come il nostro amato Salvatore. Ed è bello questo perché non c'è carattere migliore, non c'è persona migliore, non c'è traguardo migliore di quello di essere come Cristo. E questo è qualcosa che si completerà naturalmente quando poi saremo nella presenza di Dio, quando il giorno del Signore si manifesterà. Perché allora non avremo più un corpo di carne, ma avremo un corpo glorioso. Perché se saremo viventi saremo trasformati in un batter d'occhio, se magari avremo già lasciato questa terra, risusciteremo con questo nuovo corpo che il Signore ci darà e contempleremo Dio faccia a faccia. Ho questa fiducia, diceva l'Apostolo Paolo, che colui che ha iniziato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dieci aiuti ad avere anche noi questa fiducia e a camminare in modo tale da essere graditi a Dio. Pace del Signore. Grazie a tutti.